Ciao, sono Toto Forrai, capitano della Donomiti Energia Trentino. Come sapete il basket è uno sport che richiede tante energie fisiche che mentali. Grazie allo Sero Body riesco a concentrarmi su me stesso, quindi capire i punti da lavorare. La testa soprattutto mi aiuta a zerare sia in caso di vittoria e sconfitta per poter ripartire al meglio. E quindi sono molto contento di poterlo usare dopo le partite.